può, diciamo, da un certo punto di vista coinvolgersi, c'è un certo grado di coinvolgimento che il narcisista può sicuramente avere, anche se magari non se ne rende conto, anche se magari pensa che, diciamo, potete pensare che il narcisista non si innamora, ma, scusate, l'innamoramento del narcisista è avviene, avviene per certi versi e quindi noi possiamo cogliere. Allora, cerchiamo di capire, salutiamo la nostra border, cerchiamo di capire un attimino quali sono queste modalità che noi possiamo comunque utilizzare per generare un coinvolgimento nel narcisista. Ovviamente dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale che, se abbiamo a che fare con un narcisista, dobbiamo imparare a giocare la sua guerra, cioè dobbiamo imparare le strategie di manipolazione, perché la destrutturazione del narcisista avviene soltanto manipolando il narcisista. Quindi non è vero che il narcisista non è sensibile alla manipolazione, anzi è vero il contrario. Il narcisista, tutto sommato, è davvero molto sensibile alla manipolazione, teme le tecniche di manipolazione, le teme al punto tale che, diciamo, se noi utilizziamo con il narcisista delle strategie manipolatorie, spesso lo mandiamo KO, lo mandiamo in tilt, quindi vi darò alcune istruzioni fondamentali. Intanto devi imparare a prendere decisioni, perché questo è il primo punto, se vuoi destabilizzare un narcisista non devi lasciare che il narcisista prenda il controllo della tua vita, perché nel momento in cui il narcisista inizia a prendere il controllo della tua vita, tu sei praticamente fottuto o sei praticamente fottuta, perché avrai a che fare con una persona che di fatto governerà la tua vita stessa e quindi è ovvio che diventerà tutto più difficile per te, quindi devi imparare a prendere le decisioni, salutiamo anche Monica, devi imparare a prendere le decisioni giuste, quindi devi sviluppare il tuo potere decisionale. Ora il nostro potere decisionale è collegato a qualcosa che si chiama essere, diciamo, non essere in crisi di identità. Quindi le persone che entrano in crisi di identità perdono il potere decisionale, quindi perdono praticamente ogni capacità che gli piace o che non gli piaccia di poter fare qualcosa di buono, di poter fare qualcosa di buono. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Quindi il potere decisionale dobbiamo riacquistarlo, prendere le decisioni giuste. Quindi come possiamo raggiungere questo risultato? Beh, possiamo raggiungerlo attraverso la consapevolezza. La consapevolezza che noi siamo superiori al narcisista stesso. Acquisire la consapevolezza che il narcisista è una merda fondamentalmente. Imparare il fatto che il narcisista, dobbiamo tenere presente, avere la forza di credere che il narcisista non vale niente. Che noi siamo superiori, che noi siamo persone che sanno quello che vogliono e che nessuno, diciamo, potrà in qualche modo scalfire. Quindi chi ha potere decisionale dice io sono quel che sono. E la risposta che Yahweh disse a Mosè nella Bibbia, quando Mosè gli chiese ma tu chi sei? C'è quella famosa risposta io sono colui che è. Quindi non avere paura. La paura invece è il sentimento più difficile che... e quindi voi invece dovete imparare una cosa molto importante, dovete imparare a cogliere la paura, il terrore che si manifesta nel narcisista, nelle persone narcisiste quando pensano di aver perso il controllo. Sviluppano paura. Come vedere un film horror? Hanno una paura di fondo e voi potete. Salutiamo anche Lia e ricordo intanto a tutti di mettere un like se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e diciamo mettete, mettete un like e se volete fare una donazione al canale potete farla, se volete dare un sostegno al canale con una donazione potete farla, se volete diciamo fare l'abbonamento per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti fate un piccolo abbonamento al canale. Potrete dare un sostegno fattivo al canale. E allora la paura noi possiamo scoprirla nel narcisista quando gli diciamo io sono quel che sono, se ti vado bene è così, se non ti vado bene sai che c'è che te ne vai fuori dai coglioni. E allora ci sono delle microespressioni, questa microespressione qua che adesso la faccio un po' più lunga, tra l'altro chi segue il mio seminario sul canale Massimo Termasco poi periodicamente faccio anche il seminario sulle microespressioni facciali dove c'è questa microespressione della paura che avviene in questo modo, non so se l'avete colta e voi potete vedere proprio il terrore negli occhi del narcisista. E talvolta il narcisista diciamo ha tanta paura che arriva quasi a coprirsi gli occhi, come dicevo prima, come se fosse un film horror. Perché quindi questo lo notate, lo notate anche nel tono di voce, quando il tono di voce del narcisista tende a diventare più acuto, quasi stridulo, oppure diventa afono, è vero il verso se è vero l'inverso, quando la sua voce diciamo si abbassa in un lieve sussurro, quando la paura del narcisista diventa considerevole a causa del fatto che voi dimostrate di non, di mantenere attivo, forte il vostro potere di conquista che il narcisista non saprà più cosa fare. E quindi paradossalmente si verifica una situazione strana che il vostro potere decisionale, la vostra identità si rafforza e l'identità del narcisista viene messa in crisi. Quindi lui va in crisi identità, lui non sa più cosa decidere. E quindi vedrete talvolta che la sua camminata diventa rigida, diventa bloccata, le sue ginocchia si bloccano, aumenta la rigidità, magari talvolta inizia anche a sudare, inizia anche diciamo, inizia anche ad arrossire in certi punti, quindi si hanno anche delle chiazze rosse che si chiamano dermografia e quindi sono segnali evidenti, abbastanza evidenti, che manifestano la sua paura. E come dire, le gambe e le ginocchia diventano deboli. Quindi quando avete a che fare con una situazione di questo genere sapete che avete fatto bingo semplicemente autoaffermando voi stessi, autoaffermando il vostro potere decisionale. Quindi questa frase da dire al narcisista è una frase molto potente, salutiamo anche Fiammella, è una frase che sa squassare, sa squassare, sa sventrare totalmente il meccanismo di difesa del narcisista. Io sono quel che sono, se ti vado bene così, se non ti vado bene vai fuori dai coglioni. Imparate a dire questo al narcisista. Quando il narcisista cercherà di dirvi, ah ma perché non fai questo, ma perché non fai quello, voi diteli tranquillamente, io sono quel che sono, faccio quello che mi pare e se non ti va bene, vattene fuori dai coglioni. Vedrete subito che oltre alla paura, sempre per quanto riguarda le micro espressioni, ci si manifestano anche altre micro espressioni che sono queste, che sono micro espressioni di tristezza. Quindi perché il narcisista prova la tristezza? Le micro espressioni di tristezza, adesso io le faccio un po' amplificate. Per imparare a leggere come avvengono le micro espressioni, abbonatevi al canale Massimo Terramasco con l'abbonamento base, potrete cogliere tutti i segnali. L'esempio è questo, è una micro espressione di tristezza. E quindi quando notate che il narcisista è triste, dovete amplificare la tristezza, cioè dovete far sì che la sua tristezza diventi panico, diventi paura folle, diventi depressione. Salutiamo la nostra Rosi, è veramente un qualcosa di molto potente quando avete a affare con un narcisista. Perché tenete presente che spesso i narcisisti hanno una depressione di sottofondo fondamentalmente e quindi voi potete amplificargliela questa cosa. Quindi la prima cosa che dovete fare è mantenere la vostra capacità decisionale. Quindi non fatevi, non fate sì che lui in qualche modo prenda il sopravvento su di voi e distruggetelo fondamentalmente. Tra l'altro ci sono anche altre cose che potete fare. La seconda cosa che potete fare e che vi suggerisco di fare è invece mantenere il potere di conquista. Quindi il potere di conquista significa che non entrate in crisi esistenziale. Le persone che hanno un basso potere di conquista, cioè che credono di non saper conquistare, vivono quello che si chiama crisi esistenziale. Cioè non sanno... Allora con un narcisista cosa dovete fare? Beh, quello che lo destruttura in modo palese, in modo totale che è come una vangata, diciamo, che gli viene data tra capo e collo, è quello di, diciamo, utilizzare il love bombing con altre persone terze. Cioè iniziate a corteggiare o a interessarvi ad altre persone. Magari facendo un po' di love bombing, interagendo. E questo è un'altra di quelle cose che il narcisista non riesce a prendere in considerazione. Però tutto questo ovviamente presume la vostra forza, presume la vostra capacità di bloccarlo. Perché il narcisista spesso applica il love bombing nei vostri confronti ed è abituato a cogliere la vulnerabilità delle sue vittime, no? Per cui ecco perché riesce sempre a irritire, spesso anche con estrema semplicità, le altre persone. E invece, come ho detto all'inizio, voi dovete metterlo sul piedistallo, cioè, ma poi tirarlo giù dal piedistallo. E come fate a tirare giù il piedistallo dal narcisista? Mettere sul piedistallo un'altra persona, un suo potenziale antagonista. Questi in ogni situazione, anche in situazioni lavorativi, iniziare a dire, eh, ma hai visto Mario come bravo? Eh, ma hai visto Mario che ha tutte queste capacità? Eh, ma hai visto Mario che è così? Mario che cos'ha? Ti sei resa conto di quanto, ecco, questo lo manda letteralmente in palla. Lo fa impallare. E paradossalmente il narcisista, piano piano inizierà a coinvolgersi con voi, perché voi, diciamo, siete stati, avete creato un condizionamento, avete rotto un po' il condizionamento del narcisista. Mi spiego meglio. Anche il narcisista ha una sfera emozionale. Anche il narcisista ha una sfera emotiva. Anche il narcisista prova emozioni. Però queste emozioni vengono bloccate dal meccanismo di difesa. Il meccanismo di difesa è il meccanismo dove è strutturato, diciamo, il modus operandi del narcisista, è strutturato il fatto che il narcisista non prova empatia, è strutturato il fatto che il narcisista non si innamori. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che vanno a rendere il narcisista in una posizione di inferiorità. Ora voi che cosa dovete fare? Quindi dovete, diciamo, andare a rompere questo meccanismo di difesa, destrutturarlo, tirandogli fuori le emozioni fondamentalmente. E quindi voi fate delle cose trasgressive. Fate vedere che ci sono altre persone che sono interessate a voi, altre persone che vi corteggiano e fate vedere che voi valorizzate tantissimo, ad esempio, altri uomini. Ah, ma che bravo quello, ma che bravo quell'altro. Questo lo distrugge fondamentalmente, lo mette in una situazione in cui praticamente non sa più cosa fare. Cioè, quando percepisce che veramente, salutiamo Crazzi Robbi, quando percepisce che veramente c'è qualche altra persona che voi valutate meglio di lui, che voi valutate, diciamo, più intelligente, più forte, più... beh, questo lo mette veramente in serie crisi. Perché, diciamo, di fatto state distrutturando il suo meccanismo di difesa, lo state sconquassando. È ovvio che tutti noi poi siamo manipolati, no? Non possiamo, nessuno di noi può pretendere di non essere manipolato, perché la manipolazione fa un po' parte della vita. La verità è che siamo manipolati sin dal momento in cui veniamo al mondo. Da quando siamo in grado di parlare, praticamente manipolano le nostre scelte, le nostre condizioni. È ovvio che il narcisista, invece, ti dà una manipolazione più forte. Quindi, per spezzare questo meccanismo di manipolazione, tu devi riappropriarti di queste due capacità. La capacità di decidere, e quindi decidere di mandarla a fanculo, e la capacità di conquistare. Tra l'altro, la capacità di conquista elimina, va a sottrarre, diciamo, potere a un'altra paura che il narcisista utilizza, che soltiamo anche Roxy, che è il senso di colpa, no? Mentre quando si manipola una massa di persone, quello che si vuole creare è un desiderio comune, fondamentalmente. Quando si manipola, diciamo, una persona singola, quello che si utilizza, quello che il narcisista utilizza, è il senso di colpa. Il senso di colpa è figlio di un ricatto. Il senso di colpa può essere, diciamo, visto come l'insieme di elementi emotivi, quindi una sorta di sentimento spiacevole che deriva da una certa convinzione, da un forte senso di responsabilità. Quindi è un sentimento che ci porta a credere di aver danneggiato una persona cara. Ora, se voi riacquisite la vostra capacità di conquista e quindi voi vi fate vedere che siete in grado di conquistare, di sedurre, di valorizzare altre persone, beh, questo è come un'ammazzata tra cap e colla al meccanismo di difesa del narcisista che inizierà a coinvolgersi con voi. Tra l'altro voi avete un altro potere, perché è vero che i narcisisti non provano naturalmente sensi di colpa, perché il narcisista, come sappiamo, a causa della sua scarsa empatia, non prova senso di colpa, il timore di aver ferito qualcun altro e quindi vive un senso di colpa. Ma il narcisista però ha un grande punto debole che voi dovete imparare a sfruttare, dovete imparare a mettere in atto, è il senso di colpa espresso da se stesso verso se stesso, cioè crede che con le sue scelte, dovete fargli intendere, con le sue scelte, con quello che ha deciso, con quello che ha fatto, lui sta danneggiando se stesso. E siccome il narcisista è praticamente tutto focalizzato su se stesso, entrerai in una sorta di crisi, come io sto facendo qualcosa che mi danneggia, come ad esempio aver, diciamo, interagito con te in un certo modo, perché questo proprio a causa della sua, ecco, quello che dovete fargli credere è che voi sareste stati anche con lui, ma a causa del suo comportamento valorizzate qualcun altro, valorizzate un'altra persona. Quindi in questo caso l'antagonista, l'utilizzo dell'antagonista, se viene utilizzato in modo intelligente dalle persone, farà sì che il narcisista entrerai in una forte stato depressivo. E quando voi avete il narcisista che si deprime, praticamente gli avete abbattuto tutte le difese, perché poi non dovete fare altro che fare scarpetta sulla sua depressione. Perché quando il narcisista è depresso, inizierà a dirvi, eh, le cose vanno male. E tu inizierai a raccontargli quello che vuoi. Se tu, ad esempio, hai a che fare con un narcisista e ce ne sono certi superstiziosi, perché teniamo presente che alcuni narcisisti tendono ad essere superstiziosi, beh, quello che dovrei fare è alimentare la sua superstizione, dirgli certo che è un periodo in cui la quadratura di Giove con la quadratura di Saturno, Giove in quadratura negativa di Saturno per il tuo segno e quindi ti aspetteranno secoli di disgrazie. Eh, certo che secondo me qualcuno ti ha fatto il malocchio. Il narcisista che spesso sono superstiziosi, spesso sono ipocondriaci, spesso temono l'irrazionale, l'occulto, ditegli che secondo voi avete notato che siete esperti di energie e qualcuno gli ha fatto il malocchio, qualcuno gli ha fatto una fattura a morte. E il fatto che sia sempre triste, sia sempre un po' depresso, lo conferma. E voi gli estrete una carta, prendete una carta per dire, prendete una carta, una carta qualsiasi per dire io prendo un mazzo di tarocchi, giro una carta a caso, la ruota della fortuna al contrario, ti hanno fatto il malocchio e la ruota della fortuna che è uscita al contrario lo conferma. Qualcuno ti ha fatto una fattura a morte, delle energie negative, questo ti manderà in stato totalmente depressivo. Perché se lui ci crede, noi, la realtà, questa realtà diventa la sua unica realtà. Quindi sfruttate questo punto debole dell'ipocondria, sfruttate questo punto debole, però dovete farlo nel momento giusto. E quale sarebbe il momento giusto? Qual è il momento migliore per estrarre, diciamo, dal cilindro questo coniglio del malocchio? Quando lui già avete espresso la vostra capacità di conquista, quando già avete espresso, diciamo, la vostra capacità, la vostra capacità di, diciamo, la vostra capacità di decisionale, e queste due azioni ferme, totali, potenti, che voi avete messo in atto, fanno sì che il narcisista vi percepisca, si percepisca come triste, si percepisca come depresso, perché il meccanismo di difesa inizia un po' a scricchiolare. E quindi quando il narcisista, il meccanismo di difesa del narcisista inizia a scricchiolare, emergono tutte quelle emozioni negative che sono, come dire, emergono, escono fuori dalla tomba tutti gli zombie che sono dentro di lui, escono fuori dalla tomba tutti gli zombie, tutte quelle energie negative che sono dentro di lui. le paure, la rabbia, i risentimenti, profondi risentimenti che lo mandano in una situazione di tristezza conclamata. Questo è il vostro potere, è il potere che vi permette di danneggiare totalmente, diciamo, il meccanismo di difesa, e quindi gli produrrete ansia, gli produrrete dolore, gli produrrete depressione, gli produrrete solitudine e lo manderete pesantemente in tilt, lo manderete in una situazione che non saprà più resistere, che non saprà più gestire. Ma questo potete farlo soltanto, soltanto salutiamo anche Laura, sviluppando la vostra forza interiore, sviluppando le vostre capacità interiori. Quindi questo dovete imparare a farlo, avete la possibilità di farlo e soprattutto non dovete farvi manipolare voi, perché se voi vi fate manipolare, se vi dimostrate deboli, se vi dimostrate innamorate, allora il narcisista, che di per sé non è una persona forte, è una persona problematica, è una persona piena di problemi, in qualche modo acquisirà, diciamo, la forza dell'insicurezza, non metterà in atto questa cosa qua. Tra l'altro non dovete assolutamente cedere a tutte le cose che il narcisista dirà per farvi vivere sensi di colpa, fottetevene assolutamente, anzi godete del fatto che l'avete fatto stare male, perché questa è l'emozione che dovete dare, l'emozione di godimento, di orgoglio del fatto che l'avete fatto stare male. E il narcisista dirà frasi, ah, dopo quello che ho fatto per te, è così che mi ripaghi, dopo tutto quello che ho fatto per te, anche se non ha fatto niente, dirà, ma guarda che io non ti ho chiesto niente, quindi se eventualmente hai fatto qualcosa, sono problemi tuoi, sono problemi tuoi. Se voi dite a un narcisista quello che hai fatto sono problemi tuoi, beh, questo è una spada di Damocle, diciamo, che è come una clava che finisce sulla testa del narcisista e lo manda definitivamente in tilt, gli toglie totalmente ogni possibilità, gli toglie totalmente ogni chance di avere il controllo sulla vostra vita e paradossalmente sembrerà strano, ma tenderà a coinvolgersi con voi, tenderà a innamorarsi di voi, tenderà a vedervi come una persona che sa domarlo, come la persona giusta. E il narcisista, da leone, si trasformerà in un gattino, si trasformerà in una persona che non avrà questa cosa qua. E' anche falso che il narcisista è molto imprevedibile. I narcisisti sono prevedibilissimi. Se voi ritenete che un narcisista sia imprevedibile, è perché non siete in grado, è perché non siete in grado di, diciamo, di cogliere quelli che sono gli schemi del narcisista, che sono schemi che si ripetono costantemente, si ripetono continuamente. Quindi avrete questa grande opportunità di prevedere in anticipo tutti i suoi comportamenti e destrutturare. Provate a mettere in atto queste strategie e vedrete che avrete un grande potere sul narcisista stesso. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video e naturalmente seguitemi su tutti i canali YouTube.